Con l'obiettivo di accendere i riflettori su un territorio dalle straordinarie potenzialità, Bandiera Blu è uno dei borghi più belli d'Italia, contribuire allo sviluppo turistico della città e sostenere chi ne ha più bisogno, la Proloco di Marotta, con il patrocinio del Comune di Mondolfo e in collaborazione con l'ASD Marotta Calcio e partner privati come il Maestrale, ha ideato un programma di manifestazioni estive di rispiro nazionale ed oltre. Un poker di eventi tra luglio ed agosto che spaziano dalla musica allo sport, dal giornalismo allo spettacolo in grado di soddisfare tutti i gusti, giovani e meno giovani, residenti, visitatori e turisti. Concerti, musical, spettacoli, appuntamenti sportivi che vogliono regalare a Marotta e al territorio la vetrina che meritano. Il programma è stato presentato nella sala del Consiglio Comunale dal presidente della Proloco, Luca Mazzanti, dal sindaco Nicola Barbieri, assieme all'assessore al turismo Davide Caporaletti e al collega allo sport Giovanni Di Tommaso. Il primo è l'evento del 5 luglio alle 21.30 Molo Arena, che è il musica al libro della giungla, che è musica per adulti e bambini. Il secondo spettacolo importante è un concerto tributo ai Queen e sarà lo spettacolo il 14 luglio, sempre il 21.30 Molo Arena. Tutti i due spettacoli sono a pagamento e i biglietti sono su Ciao Ticket. Oltre a questi due abbiamo forse quello più importante, che è il Mondiale Beach Soccer, che si terrà il 19.20.21 al Beach Stadium di Marotta. L'ultimo evento che verrà il 9, 10 e 11 agosto, Marottanta, dove proporremo in piazza dell'unificazione Marotta il 9 agosto un Remain Bar People, che è la discoteca famosa di Marotta e quindi Fanny DJ con la sua musica farà la disco anni Ottanta. Il 10 agosto, sempre in piazza dell'unificazione, avremo Marco Ferradini, Alan Sorrenti e Alberto Camerini, accompagnati dalla pop band Pop Deluxe e tutti i tre giorni il Viale di Marotta sarà arricchito da videogiochi degli anni Ottanta. Per questa estate il Comune e tutti i soggetti interessati hanno alzato ancora la sticella, presentando un calendario estivo davvero importante, con appuntamenti a livello nazionale, insieme alla Proloque e alle tante associazioni che collaborano, si è riusciti a organizzare quattro eventi e quattro manifestazioni, tra cui la tappa mondiale del beach soccer, che daranno grande visibilità a Marotta e a tutto il territorio. Sono eventi molto importanti, eventi che veramente portano il territorio dappertutto. Abbiamo fatto una pubblicità molto importante e sui social e attraverso i media, proprio perché l'evento diventa un momento così catalizzatore per tantissima gente che viene anche da fuori. Per cui molto importante per la promozione del territorio.